Hola amigos! Vi ricordate questo video, o meglio questa location, è esattamente dove aveva montato la nostra lampada Tomons 1004 che trovate qui in alto. Ok, l'abbiamo appena montata ma la stiamo già amando. Esatto, perfetta, guardate che luminosità, ovviamente siamo per terra poi quando saremo là sopra, la luminosità è migliore, è più distribuita perché magari la mettiamo contro il muro e c'è le bucce più diffuse. Oggi vorrei farvi vedere un pacco che è arrivato, non guardate il mio indirizzo se non mi trovate, e apparte che non è neanche il mio. Trovate mia nonna. Mettiamo sopra una nonna a casa. Dentro c'è il genoviglio. Esatto, e farvi già vedere cosa c'è dentro, ovvero una bottiglia di 24 bottles. Sono 24 bottiglie. Sono 24 bottiglie, dentro uno scatolino così, sono delle bottigliette così, tipo quelle del trinchetto che ti bevi da qui. Cosa c'è un poster? Tu vuoi prenderlo in camera? Non, però, ci sono delle, cos'è? Ah, è una sorta di giornale numero 7. Sì, ci sono delle info molto fighe, ecco. Vabbè, è qui dentro. Tatiana ha già estratto la Bottles. Cos'è? Ne parlo io velocemente. Crima Bottles, o meglio, 24 Bottles è un brand italiano, tra l'altro, che produce soluzioni ecosostenibili per il contenimento di materiali liquidi, ovvero delle bottiglie riutilizzabili. Ah, ok. E questa qui, in particolare, la serie Clima, permette di mantenere la temperatura. Esatto, mantenere la temperatura, il caldo per 12 ore e il freddo per ben 24 ore. design in Bologna. È dal 2013, che sono presenti in Italia e nel mondo. È di acciaio, senza stagno, stainless steel, penso sia d'acciaio e non stilabile, comunque, insomma. È riusabile, perciò non potete, cioè nel senso, non userete più le vostre bottigliette inquinanti di plastica, ma userete una singola bottiglia di stainless steel. È leggera e, sì, è un'azienda green, ovvero zero emission, non emette per produrre queste bottiglie e quando emette, ovviamente, cerca di contrastare il tutto, ovvero ottenere un bilancio zero delle emissioni. E cosa devo dire? Quanto l'ho pagata? Quanto l'ho pagata? L'ho pagata? Quanto l'ho pagata? 34,90 più 4,90 di spedizione in Italia, nella penisola. Poi nelle isole mi pare qualcosa di più, però, insomma. Ma questa è la clima, quindi costa di più. Esatto. È la più grande, vero? E la clima, è la più grande della versione clima, quel mezzo litro. E ho scelto la serie, la serie, il modello Eclipse, che secondo me è spettacolare. Cioè, guardate, è tutto puntinato, questa sfumatura, che adesso non vedrete magari in video, ma vi lascio qui di fianco la bottiglia. E ho la scritta clima e 24 bottles. Il tappo è svitabile, c'è scritto 24 bottles anche sotto il tappo. Non puzza di niente, il che vuol dire che non è sporca. E dice comunque di lavarla la prima volta, perché normalmente, insomma. Oh, c'è la plastichina. Tantiana toglie la plastichina. Sotto dice un po' tutte le cose che vi ho appena detto, vero? Così ti ricordi che è più rimangibile. Cos'è fatta. Bella, mi piace comunque, dai. Sì, bella. Me la immaginavo opaca, ma anche lucida non è male. Mi ricorda la nieve. La nieva. Nello smog. La nieve nello smog. Cioè, la nieve pone pulita e diventa schifosa la nera quando la gente, con le macchine suona. Eh, ma Eclipse suonava meglio, di neve nello smog. Sai? Ecco, a me la ricordavo. Ma già ricorda. Non comprate la pasta, tipo, è già rotta. È già rotta. È abitabile. Io pensavo invece che fosse tipo plop, plop. Meglio così, almeno se non lo stacco per sbaglio, giustamente. E niente, è doppio appunto per mantenere il clima, il più caldo. Mantiene più freddo. Il freddo, sì. Ha doppia parete. Perciò ha una doppia parete e tra una parete e l'altra c'è il vuoto, ovvero niente. E perciò non conduce il calore. E niente, se volete acquistarla vi lascio il link in descrizione. Non ci hanno pagato, ma comunque mi piace come azienda. L'ho scoperta perché ho dato su Instagram, poi ho scoperto che era italiana, perciò un motivo in più. Poi dopo mesi, mesi. Eh, voglio prenderla, non la prenderla. Sì, sono andato avanti per mesi a volerla prendere. Invece questa cosa prima non lo so bene. Ah, sì, sì, vabbè. Già che ci siamo, vi facciamo vedere questo cavetto che è arrivato insieme, più o meno. Cioè, non arriva sempre dalla stessa azienda, arriva allo stesso giorno. È un cavetto che ho preso, un semplice cavetto USB, che è slivato, ovvero è ricoperto in tessuto che garantisce una maggiore resistenza e anche magari un design più raffinato, insomma. Non mettete in testa bambini perché se no soffocate e la vostra mamma si arrabbia. È molto faigo perché c'è il supportino qui sopra in tessuto. Esatto. E qui c'è scritto open, perciò opiniamo. Cosa hai preso questo cavetto? Non so chi abbia scritto open, però non serve a un cavolo l'open. Per cosa hai preso? L'ho preso perché macchina nuova arriva settimana prossima e per portarci nei nostri viaggi in giro per la Lombardia del Piemonte. Allora mi serviva un nuovo cavetto, perché quello vecchio era veramente distrutto e non funzionava più. è sperato che siamo nella Lombardia del Piemonte. Tanto lo sapevano già, siamo sempre a Milano, non possiamo essere del romano. Ma senti il mio accento romano. E mi piace, ti piace Tatiana? Sì. Era nero ma in realtà è un grigio scuro più che un nero. Non capisco, per me è un cavetto. Anche per loro è un cavetto, anche per me è un cavetto, però ci tenevo a farvelo vedere perché mi pare un prodotto di qualità. Un metro e mezzo oppure tre metri. Dieci euro. E niente, sperando che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, condividetelo con i vostri amici e bevete tanto durante la giornata, cosa che io non faccio e spero di fare con questa bottiglietta. Io ero un po' tanto l'ho fatta del catele bere, ma non bello mai. Esatto. Ciao. Ciao.